Ciao a tutti ragazzi, qui Darkness e benvenuti a questo nuovo video su Battlefield 4 Oggi, anche se il gameplay è di Second Assault, vi parlerò di Naval Strike Semplicemente non ho ancora scaricato i gameplay di Naval Strike e quindi non ho dei gameplay Però ne ho già registrati tanti, già pronti per il download e nei prossimi video in cui parlerò di Naval Strike metterò il gameplay giusto Fra l'altro questo gameplay è anche abbastanza mediocre e quindi mi scuso già sin dall'inizio per la qualità In ogni caso, parliamo di Naval Strike oggi Naval Strike, devo dire che mi sono sbagliato, mi sono sbagliato di molto, tantissimo Perché nell'ultimo video, o due video fa, ho parlato di Naval Strike e ho detto che sì, ha delle cose buone Ma non vale i soldi che i giocatori o i potenziali compratori a parte, che comprano ogni DLC separatamente Non vale i soldi che questi andrebbero a spendere Ma devo davvero ridirmi Perché? Perché dico ciò? Ho detto che, nello scorso video ho detto che, ad esempio, che le mappe risultano tutte molto simili a Paracel Storm E che sono, in generale, quattro mappe molto simili E già qua mi sono sbagliato Io avevo giocato soltanto un paio di partite brevemente Vi ho parlato del DLC dopo tre partite che ho giocato Ora ho avuto la possibilità di provare di più Di provare più modalità Di provare di sperimentare più a fondo questo DLC E sono arrivato alla conclusione che sì L'ambientazione delle mappe resta comunque simile Nel senso sono delle isole C'è tanta acqua, eccetera Ma, al contrario di quello che vi avevo detto nello scorso video Ogni mappa fluisce a modo suo Ci sono dei flank stupendi Soprattutto su Corsa Le mappe sono davvero, davvero belle Non solo esteticamente Ma anche a livello di gameplay Questo DLC Al contrario di quello che pensavo inizialmente Mi sta davvero stupendo Mi sta stupendo sempre di più Al punto che, insieme a Second Assault È, per ora, il mio DLC preferito Devo dire Che, cioè, mi devo scusare Per avervi, diciamo, sviato Negli scorsi video Un'altra cosa che avevo detto Cioè, un'altra critica che avevo fatto a Battlefield Poco tempo fa Forse anche il video scorso È stata la modalità Corsa Tutto quello che ho detto in quel video Cioè, non smentisco nulla di quello che ho detto in quel video Penso sia così Penso che Corsa Non sia più la Corsa di una volta Penso che Corsa Avrebbe bisogno di delle mappe a sé istanti Però Su Naval Strike La modalità Corsa è estremamente divertente Hanno Sono riusciti su Naval Strike Finalmente La DAES ha aperto gli occhi E ha spostato le casse Su Corsa In modo da Metterle Più distanti Adesso C'è di nuovo Quella sensazione Su Corsa Almeno su quelle quattro mappe C'è Questa sensazione Su Corsa Che davvero Da Una stazione di M.com Alla prossima La mappa cambia C'è un cambiamento La mappa Attraverso questo È dinamica E non è dinamica Perché cade un grattacielo Come su Conquista Grande Su Asseglie a Shanghai È dinamica Perché Semplicemente Muovendosi da un posto All'altro Si cambia Prima È un assalto alla spiaggia Dopodiché Si arriva A uno scontro Close quarters Con delle armi Dove i mezzi Non possono fare niente Dopodiché Si arriva Ad attaccare Ad esempio La porta aerea Inemica Come ad esempio L'ultima stazione di M.com Mi sembra su flangi frutti Quindi Questa sensazione Di corsa Con questa mappa Davvero dinamica Mi mancava E mi mancava tanto Perché Su Battlefield 3 Era presente Su Battlefield Bad Company Due ragazzi Tutte le mappe Erano così Su Battlefield 3 Come ho già detto Era presente Più o meno Come è presente Qua adesso Su queste quattro mappe Che sono uscite Mi ha davvero stupito Questa cosa Ma davvero tanto Sono davvero Davvero contento Di aver Di aver la possibilità Di giocare a questo DLC Essendo un membro premium E Devo dire Che davvero Consiglio Questo DLC Ve lo consiglio Davvero tanto Se Doveste chiedermi Al momento Dark Ho 15 euro Compro China Rising Second Assault O Naval Strike Vi direi Non comprare China Rising Perché è quello Che mi è piaciuto Davvero di meno È stato Un DLC Proprio una stronzata Secondo me Vabbè In ogni caso Però Sarei davvero Davvero Indeciso Se consigliarvi Second Assault O Se consigliarvi Naval Strike E a questo punto Direi Se avete giocato A Battlefield 3 Piuttosto Prendete Naval Strike Per quale motivo Dico ciò Perché Le mappe Di Second Assault Possono essere belle Ma le conosciamo Già Le mappe Di Naval Strike Non le conosciamo E ora Invece Passerò L'ultima parte Di questo video A fare una Grandissima critica Al DLC stesso Che ho loadato Finora Il DLC È perfetto Le mappe Sono bellissime Le armi Che ci hanno dato Sono belle Ma C'è Un grande problema Un grande problema Soprattutto Per PS4 E io gioco Su PS4 Quindi Ci sono dentro Fino Ai capelli Cioè Il fatto Che Le mappe Di Naval Strike Su PS4 Su conquista Portaerei Grande E Su Conquista Grande E quindi Le mappe Tutte Tutte le modalità Che hanno 64 giocatori Sono Ingiocabili E con Ingiocabili Non intendo Brutti da giocare Perché c'è un po' di lag Con Ingiocabili Intendo Che c'è un rubber Underbending Che Ritira Indietro Il jet Di 10 metri Alla volta E questo Continuamente E' un lag davvero Martellante Ed è Frustrante Giocare A conquista Grande O assalto Portaerei Grande Su PS4 E questo Mi dispiace Perché Come vi ho detto La volta scorsa Una delle cose Più belle Del DLC E' anche Il fatto Che abbiano Introdotto L'assalto Portaerei Che Per quanto Si possa Criticare Anche lì La posizione Delle casse Vicine Che è una Critica Che ha fatto Un mio iscritto Negli ultimi Commenti Dell'ultimo Video Comunque Resta una Modalità Molto Molto Bella Con un Grandissimo Potenziale Con Una Modalità Di gioco Molto Dinamica Soprattutto Nella parte Più Concentrata Sulla Fanteria Quando c'è Da attaccare La porta Aerei E' una Modalità Bellissima Ma Come faccio A giocarci Se poi salgo Sulla barca E per mettere La mira Devo Premere 5 volte Tasto In su Perché Perché Semplicemente L'H L'H Da morire Ragazzi E' Secondo me Una vergogna C'è da dire Che DICE Ha già pubblicato Sul forum Ufficiale Che Sono Che sanno Di questo problema E che è la loro Priorità Spero che la risolvano Molto in fretta Penso che Con l'ultima patch Uscita Insieme a Naval Strike Comunque Il netcode Si è migliorato Da quello Che avevamo Prima Nel senso Si riesce a giocare Sempre meglio Battlefield 4 Sta diventando Finalmente Un gioco Completo E sono contento Di questo E Sì Spero che risolvano Questo problema Così mi potrò godere Veramente Fino in fondo Questo Questo DLC Che mi sta piacendo Davvero davvero Tanto Finora Come vi ho già detto Gioco soltanto In corsa Semmai In deathmatch A fazioni Cioè scusate Squadroni Adesso hanno cambiato Sono ancora abituato A Battlefield 3 Su corsa Su dominio Forse mi sono anche ripetuto In ogni caso Quelle modalità Con 16 giocatori A squadra Perché Semplicemente Le altre Sono ingiocabili Questo è tutto Noi ci vediamo Al prossimo video Lasciate un commento Dicendomi la vostra opinione E noi ci vediamo Al prossimo video Bella ragazzi Ciao Ciao Grazie a tutti.